Il restauro finisce in vetrina al centro commerciale La Fabbrica che nel marzo scorso, grazie alla legge Franceschini, ha deciso di sostenere il recupero e la riqualificazione della Polena Italia, che in passato si trovava esposta al Museo Tecnico Navale. Oltre alle fasi della ristrutturazione che si possono seguire in diretta in un sito internet dedicato, il direttore del centro commerciale lancia due iniziative a sostegno di Polena Italia e per il restauro di altri preziosi elementi come questo. Il restauro sta andando avanti, il nostro obiettivo in questi mesi di qua alla fine del restauro è quello di lanciare due cose soprattutto. La prima è lanciare su internet, attraverso il sito del restauro della Polena, una raccolta di fondi finalizzata al restauro di altre Polene o di altri reperti importanti del Museo Navale. E l'altro è quello di avvicinare il più possibile i giovani al Museo Navale e alle Polene, un concorso letterario che noi chiamiamo C'era una volta la Polena, dedicata alle scuole elementari per la quale mettiamo in paglio premi in forniture didattiche e la pubblicazione di un libro la cui vendita sarà sempre finalizzata al restauro della Polena. Tra i membri della giuria per il concorso letterario dedicato ai giovani alunni delle scuole primarie c'è Beppe Mecconi che ha illustrato parte del progetto. È venuta l'idea di coinvolgere anche i bambini più piccoli oltre a quelli che vanno a guardare il restauro, di coinvolgere i bambini del primo e del secondo ciclo facendogli inventare un racconto, una fiaba su questa Polena e selezioneremo i 20 migliori che saranno pubblicati in volume, illustrati, ognuno avrà un'illustrazione fatta dagli stessi bambini. È invece Daniela Frati a curare le fasi del restauro e oggi al circolo ufficiali ha fatto il punto sui lavori. In questo momento stiamo togliendo tutti gli strati che sono stati sovrapposti all'originale per recuperare quest'ultimo. E anche il fatto della salinità marina ha contribuito ancora di più a come cementificare questa sostanza e quindi stiamo lavorando meccanicamente con bisturi, scalpelli, piccoli scalpelli. Una volta terminato il restauro la Polena Italia tornerà al Museo Tecnico Navale che sta passando una fase di cambiamento. In questo periodo abbiamo approfittato per portare il museo in altri luoghi che non sono i suoi tradizionali. Come vede questo recupero e questo restauro della Polena Italia? Il restauro lo vedo all'interno dei grandi lavori che stanno accadendo nel museo, quindi probabilmente sarà la Polena la prima restaurata del nuovo museo e quindi sarà una bella mostra di sé nella sala, speriamo di dedicare alle Polene. Grazie a tutti.